Ciao a tutti, bentornati sul canale di Trattoria Sportiva, io sono Mario e prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento facendomi sapere la vostra opinione su Cosenza Ferrar Pisalo 1 a 1 Allora, premessa, io come ben sapete sono sempre stato dell'idea che prima arriviamo a 40-42 punti e meglio è Cioè io non sono uno di quelli a cui piace sognare, cioè da fresco laureato in scienze storiche lo posso dire, cioè sono più per le cose concrete e a me le idee si piacciono ma fino a una certa Io sono più per il concreto Arriviamo a 42 punti e poi si vede, ok? Questo è il mio mood di vita in questo momento Cosa che ha detto anche il mister ieri in conferenza stampa, cioè salviamo e vediamo ma Oggi da questa partita cosa puoi salvare a parte il punto e ti è andata pure di lusso, ripetiamo, ti è andata pure di lusso col punto Perché a una certa con la traversa potevi rischiare pure di perderla La potevi rischiare pure di perderla Cosa, cioè, poi dicono che bisogna prendere i dati e, cioè, cosenza, che addirittura forse è andata immeritatamente in vantaggio col gol di Venturi Perché la Ferraro Pisalò stava forzando, forzava un minimo tentando di forzare la partita Tu, sei andato in vantaggio con l'ennesima giocata di Calò su un calcio da fermo che la butta dentro e Venturi la butta dentro La gira in porta al 19esimo, 17esimo minuto Quindi, sei andato in vantaggio su una palla da fermo Il problema di questa squadra, che è cronico, cioè, io dicevo con l'ecco, vabbè, si è sbloccato forte E ma forte da lì non ha più, ha toccato un pallone, o meglio, ha toccato un pallone, no, non ha più segnato Dopo la partita con l'ecco, tu hai collezionato due punti in tre partite Che non è filotto Che non è filotto, perché comunque se ho due punti, uno con lo spezia E uno in casa, questo secondo me fa più male Non è un filotto di sconfitte, ma sta iniziando un filotto di pareggi Che comunque, dici tu, se non puoi vincere, ripetiamo sempre il mantra del buon Piero Braglia Se non puoi vincere, almeno prendi un punto, è ok, lo capisco Quello senza ombra di dubbio, ciecamente Ma, ma, e dico ma Con la Feralpi salò Con la Feralpi salò Tu dovevi fare una cosa sola, in casa soprattutto Ovvero prenditi i punti E poi, vabbè, no, stavo per fare una battuta, ma no, non sono nel but Di fare battute anche con Patata da Sia, no, non sono nel but Non sono nel but Cioè, prestazione orrenda Sia di chi è partito titolare Sia di chi è subentrato Cioè, ma, il secondo tempo È proprio da prendere E buttare via Cioè, è sembrato di vedere la formazione di Brescia È sembrato di vedere un film È come un film dell'orrore, direbbe Bastianici È più o meno Più o meno, perché è stata una cosa A dir poco Raccapricciante Perché tu nel primo tempo Hai avuto delle occasioni con Forte Con Florenzi Hai avuto delle occasioni per andare su 2-0 Che probabilmente avrebbero incanato la partita Ok? Con Pizzignacco che No, sul tiro di Forte mi sa che l'ha deviato un difensore E Pizzignacco non Non l'ha deviato Ok, va bene Va bene Però c'è un problema Cioè, che tu sei finito lì Poi, mi potete dire C'è stato il batteri-batti in aria Che Dopo l'1-1 Quanto meno Un minimo 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 Di forcing L'hai avuto Un minimo 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 Ma stiamo parlando di piccolezza Cioè, tu sta partita Dovevi essere 2-0 La fine del primo tempo Emulando la partita con l'Ecco Io non mi ricordo se Però almeno con l'Ecco Avevi detto Boom Questo sono io E non ti faccio giocare palla Oggi non l'hai fatto Sarà stato il campo pesante Sarà stato Che non c'è stato Grande spinta di pubblico E io sono uno di quelli Non occasionale Diciamolo Che oggi non è potuto andare Per problemi Va bene Va benissimo Ma con tutto il ben del mondo Con tutto il ben del mondo Tu oggi dovevi vincere Di riffa Di raffa Brutto Tu oggi dovevi vincere E ripeto E ripeto Ti è andata bene Che non l'hai persa Perché tu oggi potevi Potevi chiudere Praticamente questa settimana Di fuoco Chiamiamolo così Con un punto Che poi non abbiamo giocato In effetti settimanali Però capite il concetto Potevi giocare Potevi chiudere Le ultime due giornate Con un punto Punto che Tu avevi conquistato Alla Spezia Boom Cioè tu potevi chiudere Sampdoria La Spezia Feral Pisolo Con un punto E se non erro La prossima è con la Ferrar Pisolo Eh con la Ferrar Pisolo Sì buona Con la Reggiana Che viene L'ultima giornata Viene 3 a 0 Questa settimana Credo giocherà domani O Sì domani per forza Perché lunedì Non penso si giochi Ditemi voi Ditemi voi Che non Magari Sbaglio io A leggere La lettura delle partite Sicuro Quello che non l'ha sbagliata 100% Che non l'ha sbagliata E Il nostro ex allenatore Che assieme a Gazzi In panchina Gli hanno intortato la partita Perché gliel'hanno intortata A Caserta Oggi la partita Zaffaroni Gli ha intortato la partita Oggi a Caserta E non mi venite a dire Che noi con le squadre chiuse Facciamo fatica È anche vero Ma loro Quando ripartivano Ripartivano Cioè loro Quando ripartivano Ripartivano E tu Hai buttato dentro Anni certa Giocatori veloci Come Canotto No Che ha avuto due spunti Due Uno ti ha messo Un pallone dentro Che Secondo me L'ha dato con una mezza frazione Di ritardo Ma vabbè Opinione È il secondo È il secondo Che questo Quel mucchione dentro Cioè Ragazzi Io non voglio essere Critico contro Aldo Voi sapete Quanto io Ami Aldo Ma secondo me In un 4-2-3-1 Così spinto Aldo non ci può giocare Aldo in un 4-2-3-1 Così Aldo Per me Personalmente Io non ce lo vedo Potete dirmi Quello che volete Ma in un 4-2-3-1 Così io Aldo non ce lo vedo Piuttosto Faccio giocare Mazzocchi Che anche oggi È stato in operoso Ma perché ha fatto Tutta altra cosa Cioè una certa Io ho visto Crespi Vabbè Tipo diciamo Nel forse in finale Sull'auto di destra A prendere il pallone Ho detto Ma come è possibile Magari Ho sbagliato io Ma ho visto Ho visto Ho visto Crespi Che invece di fare la punta È andato lui a fare il cross Per la punta Che non c'era Perché doveva essere Lui la punta Mannaggia I sandali del Papa Che palle Però Cioè Ripeto Ti è andata di lusso Perché ti è andata di lusso E ripeto Io sono incazzato Non tanto E ribadisco Non tanto Perché i playoff Da lontano Non è Non è Io voglio arrivare Io voglio arrivare a 40 Più 2 3 4 50 punti Saranno Entro Il target mio Aprile Per non arrivare a Maggio Le ultime giornate A soffrire Io Quello È il mio obiettivo Io non ne voglio sapere Al momento Non ne voglio sapere Non ne voglio Minimamente Sapere Tu oggi andiavi a 18 E diciamo Che dopo 12 giornate 18 punti Era un buon bottir E invece no Non si è complicato nullo Per l'amor di Dio Non sto dicendo questo Però Cristo Cristo Che per carità Ribadisco Che per me La Ferrisalo Oggi Meritava di vincere Cioè Te oggi Ti andava di lusso E lo ripeto E comunque Ora Non mi ricordo Se Venturi Ha fatto Gli stessi gol Di Francesco Forte Punto Fatemi sapere Cosa ne pensate Nei commenti Lasciate un like Iscrivetevi Al canale Qualora Non l'aveste ancora fatto E noi ci Aggiorniamo presto Scuso per La scorsa partita Ma ero in giro Quindi non Ho visto Tanti primo tempo Per dirvi Poi a una certa Mi hanno detto Un amico Oh ma l'hai visto Il polo di venturi Ennesimo della stagione No Non l'ho visto Ciao a tutti E buon fine settimana